Un commando organizzato, quello che nella notte all'Aquila ha divelto il bancomat della banca Monte dei Paschi di Siena, portando via la cassaforte. Ancora da quantificare con precisione l'ammontare del denaro rubato, tutto in quattro minuti, come hanno evidenziato le telecamere di videosorveglianza, che però sono da visionare meglio. I malviventi, sicuramente esperti, hanno agito incappucciati e prima del colpo hanno avuto anche premura di puntare una delle telecamere esterne all'insegna della banca, così da oscurarli. Il bancomat lasciato per terra è traccia di fanalini dei furgoni, presumibilmente due, usate per sfondare il muro. Sull'asfalto ancora le tracce dei pneumatici del mezzo usato e anche quelle lasciate per trascinare la cassaforte. Non è la prima volta che la banca è in questione sulla satale 17 viene presa di mira dai ladri. Ciò che preoccupa maggiormente è la ripetitività dei colpi all'Aquila. Soltanto pochi giorni fa un commando era entrato sfondando la porta scorrevole nel centro commerciale dell'Aquilone. Anche lì tutto in quattro minuti. L'allarme della banca ha sonato regolarmente ma la velocità dei malviventi non ha permesso alle volanti di arrivare in tempo. Indaga la squadra mobile, coadiuata dalla polizia scientifica per l'analisi delle immagini e delle tracce trovate. Grazie. Grazie.